Buongiorno e ben trovati con il nostro consueto telegiornale, vediamo le principali notizie di oggi, melito di Portosalvo, il caso del Sindaco Meduri arriva sul tavolo dell'autorità nazionale anticorruzione, dopo ricorso al Tribunale che dovrà deliberare se riconoscere la sussistenza o meno delle cause di candidabilità del Sindaco di Melito di Portosalvo, Giuseppe Meduri e di conseguenza dichiararlo decaduto e dichiarare la nullità delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Lo stesso Ingegnere Marino, che ha quindi prodotto il ricorso a meno di dieci giorni dalla discussione dello stesso, scrive e indirizza una missiva sollevando a questo punto anche a livello nazionale il caso di Melito di Portosalvo. Marino espone accantone la figura di Meduri dicendo l'attuale Sindaco del Comune di Melito di Portosalvo, Giuseppe Salvatore Meduri, era consigliere comunale al momento degli ultimi due scioglimenti del Consiglio, 1996-2013 e sul suo nominativo, raggiunto da sospetti in ragione di parentere e precedenti giudiziari, già si era occupata la commissione d'accesso nominata nel 2006 per valutare un ulteriore, poi misteriosamente negato, scioglimento del Consiglio per infiltrazione maviosa. A fronte di una condanna definitiva, scrive Marino Accantone, non vi è dubbio che il Meduri, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 235 del 2012, non poteva essere candidato alle elezioni comunali e non può quindi ricoprire la carica di Sindaco, scrive appunto sempre l'ingegnere Marino nella missiva Accantone. E sempre nella stessa missiva Marino lancia accuse pesantissime nei confronti dell'attuale Sindaco di Melito, eletto nelle consultazioni elettorali del 31 maggio. Dice Marino, è nipote del defunto capo ondrina della frazione di Frunella, Natale Meduri, nipote per essere figlio del fratello. Oltre a ciò è cugino di Antonio Meduri, attuale sempre secondo il collaboratore di giustizia capo ondrina della frazione di Frunella. Frazione nella quale il Meduri evidentemente, anche in forza di vincoli anagrafici, continuo appunto Marino, è totalizzato a percentuali bulgare di preferenza. Emerge inoltre dagli atti di ADA una evidente contiguità locale con ambienti legati alla criminalità organizzata. Esistono anche ulteriori rapporti di frequentazione e parentela con soggetti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione ADA. Una lotta dura, quella ingaggiata da Giovanni Marino, evidentemente anche per motivi di natura politica, essendo stato sconfitto alle urne per circa 100 voti. Una lotta che apre comunque pesanti interrogativi su un paese martoriato e non solo su ruoli e responsabilità, ma anche su un'evidente e diffusa omertà trasversale che passa tutti i candidati a sindaco e tutti i candidati nelle tre liste che sono stati in competizione durante la campagna elettorale. Melito non è Roma, Melito non è pure New York e New York. Quello che suora strano è che in un piccolo paese come il nostro, di poco più di 10 mila anime, nessuno sapesse di questi precedenti del sindaco Meduri, nessuno sapesse di queste parentele. E se Melito non è Roma, Prunella, aggiungiamo noi, non è Reggio di Calabria, ma semplicemente una piccola contrada di poche centinaia di anime, dove tutti conoscono tutti ed è strano che proprio l'ingegnere Marino, anche lui di Prunella come l'ingegnere Meduri, si sia accorto solo ora delle pendenze in capo all'attuale sindaco di Melito. Altra stranezza o distrazione è che l'ingegnere Marino trasmetta la nota all'autorità anticorruzione e la trasmetta anche a un giornale online, alla stampa reggina, dimenticando però di informare allo stesso modo la stampa locale che ha eseguito, tra l'altro è seguito tutte le fasi della campagna elettorale e che avrebbe il diritto, il titolo, ma diciamo anche il dovere di informare prima delle altre testate esterne al nostro comprensorio i cittadini. Interrogativi e fatti comunque che cercheremo di approfondire in un apposito editoriale. Andiamo avanti con il Tg, lunedì 21 settembre prossimo 21, l'astenzione del lavoro da parte del personale Ased di Melito di Porto Salvo. Lo informa una nota dell'organizzazione sindacale USB che ha proclamato per l'intera giornata di lunedì 21 settembre l'astenzione dal lavoro da parte del personale Ased adibito al solo appalto dei servizi di igiene ambientale presso il comune di Melito di Porto Salvo e lo fa per il mancato pagamento delle mensilità arretrate da parte del comune di Melito di Porto Salvo e l'Aced, l'impossibilità appunto ad erogare gli stipendi maturati da parte della società causate appunto dai mancati pagamenti o da sporadici acconti sul canone contrattuale, purtroppo porta l'Aced a non poter quindi pagare i dipendenti e i dipendenti a proclamare attraverso il sindacato lo sciopero di una giornata. Sarà comunque avviata la normalizzazione delle attività contrattualizzate nel corso delle giornate successive e la società Ased si scusa per i disagi e invita i cittadini ad una fattiva collaborazione laddove possibile con il conferimento dei rifiuti posticipato di un giorno allo scopo di riportare la situazione alla completa normalità. Andiamo ancora, se rimaniamo a Melito di Porto Salvo, un'altra notizia, il sindaco Giuseppe Meduri su atti valendarici presso il lungomare di Melito di Porto Salvo. Nei giorni scorsi dei vandali hanno distrutto alcuni alberi di bergamotto messi a dimora presso il lungomare dei mille a Melito di Porto Salvo dall'associazione Mondo Verde Club. Sono fatti commenti del sindaco Giuseppe Meduri che periodicamente si ripetono e interessano non solo il lungomare ma anche altre aree verdi attrezzate che purtroppo vanificano gli sforzi volti a migliorare il bene comune e la qualità della vita dei cittadini. Evidentemente c'è un problema di fondo che è quello di una mancanza di valori di educazione al rispetto del patrimonio pubblico e anche al rispetto verso se stessi, dice appunto il sindaco Meduri. Ringrazio tutti quelli che hanno dimostrato la propria vicinanza e solidarietà per il Vile Geste. Siamo vicini come amministrazione all'associazione Mondo Verde Club, comprendiamo le preoccupazioni e l'amarezza del Presidente, Avvocato Aurelia Sansotta. Questi gesti vanificano tanto impegno e tanta fiducia nelle azioni di tutela e valorizzazione del nostro territorio. Ancora andiamo avanti, andiamo alla Regione Calabria. Oliverio, nei prossimi giorni la nomina dei tre commissari delle ASP. Le nomine quindi dei commissari delle ASP arriveranno a giorni. Prima comunque della scadenza dei commissari che sono stati nominati il 27 marzo, lo ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che ha sottolineato che esiste una questione specifica all'ASP di Reggio di Calabria perché c'è la questione dei debiti e dei tentativi di truffa sventati da Gioffre in questi mesi. Rimaniamo al Consiglio regionale. È stato fissato dalla conferenza dei Presidenti consigliari il nuovo Consiglio, la nuova riunione per il 28 settembre. Ha ordinato questa conferenza dei Presidenti dal Presidente del Consiglio Irto, ha fissato la data della prossima Assemblea legislativa per il prossimo, ripetiamo, lunedì 28 settembre. Dopo un ampio dibattito, al quale hanno preso parte i Presidenti dei gruppi consigliari, la conferenza ha stabilito tra i punti principali che saranno poi trattati all'ordine del giorno su proposta del Presidente Irto, condivisa l'unanimità di un provvedimento amministrativo di notifiche e regolamento interno del Consiglio per trasmettere in diretta streaming le sedute dell'Assemblea. Inoltre l'elezione degli uffici di Presidenza e della Commissione speciale contro l'Andrangheta e della Commissione speciale di Vigilanza e Controllo, in più l'approvazione del regolamento della conferenza permanente per il coordinamento delle politiche arie dello stretto e provvedimento istitutivo della zona economica speciale ZES a Gioia Tauro. La conferenza ha anche concordato di deliberare sulla proposta di referendum abrogativo dell'articolo 35 del Decreto Sviluppo che autorizza attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarboni liquidi e gassosi a terra ed a mare. Andiamo ancora avanti, sculco sui servizi di ristorazione, regione e prodotti terre confiscati. Dice apprezzabile la proposta del Vice Presidente della Regione, professore Viscomi, che nel capitolato per l'affidamento dei servizi di ristorazione nella cittadella regionale intende inserire l'obbligo per le imprese di utilizzare prodotti a chilometri zero e prodotti provenienti da terre confiscati e comunque prodotti biologici. Sono segni importanti di un mutamento di prospettiva che non vanno sottoveritate, anzi vanno sostenuti ed incoraggiati. Ancora avanti un'altra notizia, abbiamo a Locri, la nuova caserma del gruppo della Guardia di Finanza di Locri in un immobile confiscato alla potente famiglia Cordì e il Sindaco di Locri Giovanni Calabresi ribadisce solo questi i veri cartelli contro la drangheta, amministrazione quindi comunale che plaude alla nuova vittoria dello Stato che prevede la collocazione della nuova caserma del gruppo della Guardia di Finanza di Locri in un immobile confiscato da oltre dieci anni alla potente cosca di Locri Cordì. La notizia è stata confermata anche per il finanziamento di un milione di Euro assegnato al Proveditorato Regionale Opere Pubbliche stanziamento necessario per la ristrutturazione dell'immobile, è stato il Prefetto di Reggio San Martino nel corso di una conferenza stampa della denuncia dei giorni scorsi a Reggio a dare questa iniziativa. Andiamo ancora avanti, andiamo a un'altra notizia, questa volta alla provincia di Reggio di Calabria, sono a rischio interventi per 6 milioni di Euro e Verducci Vice Presidente dice necessario garantire un maggior controllo sulla qualità degli interventi programmati, quindi in merito alla difesa del territorio e più in generale ad ogni tipo di intervento che una pubblica amministrazione intende realizzare serve una assunzione di responsabilità da parte di tutti, nessuno escluso. È necessario infatti uscire allo scoperto e dire che se si vuole che le macchinose procedure burocratiche finiscono di esistere e quindi che ci sia un maggiore controllo anche sulla qualità degli interventi programmati, a contempo però si limitano alla realizzazione degli stessi, la loro efficacia e in alcuni casi la copertura finanziaria si rivela inutile e inutilizzabile a causa del tempo trascorso. Non è mai colpa di un solo ente, continua Verducci, se i lavori non vengono realizzati e si concludono in ritardo. Comuni, province, regione fanno a gara a chi complica di più le procedure, a questo si aggiungono tutti i controlli e le competenze che fanno capo ad istituzioni, penso alla cartelleria di Porto, alla sovrintendenza, al genio civile, all'autore di bacino, alla struttura tecnica di valutazione, insomma che più ne ha più ne metta. Il sistema è reso incomprensibile a causa di procedure assurde e quindi al rimbalzamento delle responsabilità mentre perdiamo ingenti finanziamenti, dice appunto Verducci. Se non riusciremo in questo intento si libereranno inutili e privi di contenuti i numerosi annunci che in queste ultime settimane riportano di lavori imminenti per proteggere i litorali, per mitigare il dissesto idrogeologico, mettere in sicurezza importanti siti archeologici dei centri abitati. Passiamo ad un'altra notizia, omicidio del brigadiere dei Carabinieri Antonio Marino, la Cassazione conferma le condanne definitive su Barbaro e Papalia, confermate quindi dalla Cassazione le condanne già disposte nel giugno del 2014 dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria, preseduta da Roberto Lucisano, che aveva stabilito la condanna a 30 anni di reclusione ciascuno per Francesco Barbaro e Antonio Papalia, entrambi originari di Platì. La condanna per i due imputati arriva nel processo d'appello per far luce sull'omicidio del brigadiere dei Carabinieri Antonio Marino, ucciso a Bovalino nella Locri del 9 settembre del 1990. La Procura Generale aveva invocato la condanna per Francesco Barbaro e Antonio Papalia, accusati entrambi di essere gli ideatori del delitto in cui perse la vita, ripetiamo, il brigadiere dei Carabinieri Antonio Marino, che sarebbe stato ucciso per la propria intransigenza investigativa nei confronti delle cosche della Locri, verrà dunque trasferito nella piana di Gioia Tauro, ma il boss della Ionica poi decideranno comunque di eliminarlo e attueranno il piano la sera del 9 settembre del 1990 a Bovalino Superiore in occasione dei festeggiamenti per l'Immacolata. Il brigadiere stava ammirando i fogli d'artificio insieme alla moglie e insieme a suo figlio. Ancora un'altra notizia, sempre di cronaca, un funzionario di banca per la concessione di un mutuo avrebbe preteso di avere rapporti personali ed intimi con una malcapitata cliente. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio di Calabria lo hanno arrestato a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. Il destinatario del provvedimento è un funzionario bancario di 43 anni, dipendente di un noto istituto di creditico che abusando della sua funzione e minacciando la mancata concessione di un mutuo avrebbe preteso di avere rapporti personali ed intimi con una malcapitata cliente. Dopo i gravi fatti la donna si è rivolta ai finanziari del gruppo di Reggio di Calabria che dopo accurate indagini hanno ricostruito i fatti e depositato una dettagliata annotazione in Procura. A seguito delle risultanze investigative sono scattate le manette. Ancora un'altra notizia, arrestato un 27enne di Gioiosa colto nella fraganza del reato coltivazione e produzione di canapa indiana. Nel pomeriggio di ieri incontrata Ricciardo di Grotteria e i carabinieri della compagnia di Rocella Ioni, grazie a prezioso contributo dei colleghi dello squadrone e riportato Cacciatori Calabria, hanno tratto in arresto una persona colta nella fraganza del reato di coltivazione e di produzione di canapa indiana. Si tratta di Lombardo Stefano, 27 anni, operario di Gioiosa Ioni, che ha sorpreso di irrigare attraverso un tubo in PVC collegato alla rete idrica comunale circa 150 piante di canapa indiana di altezza variabile tra i 100 e i 150 centimetri occultate tra la filta vegetazione di un terreno demaniale. Dopo aver bloccato il soggetto, gli operatori hanno provveduto a destilparare le piante, a bruciare tutto sul posto, ad eccezione di alcune che sono state poi sottoposte al sequestro. Lo stesso è stato anche accusato di aver utilizzato abusivamente e essersi allacciato abusivamente alla rete idrica comunale. Andiamo a Rassallu, che ha inaugurato il Museo del Santuario di Polsi, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, Vescovo della Diogesi, di Locri, Gerace e Abate del Santuario di Polsi, a numerosi rappresentanti del mondo politico, civile, militare e istituzionale e ad altri esponenti del mondo della politica e dell'associazionismo, come dicevamo prima. Il Museo, grande l'emozione suscitata nella cittadina ricadente nel cuore dell'Aspromonte, che ha colto l'evento con entusiasmo e grande partecipazione fra le opere più rappresentative custodite. Nel Museo c'è da segnalare i paramenti sacri donati al santuario dalle famiglie Caraffa e Pignatelli e poi tanti altri oggetti. Salvatore Patamia ritiene che la nascita di questa nuova struttura fortificherà ancora di più la proposta culturale che offre la provincia regina. Questo museo, insieme alle altre strutture museali, farà di questo territorio un polo culturale d'eccellenza capace di catalizzare l'attenzione di tutto il mondo dell'arte. Andiamo a Isola di Capo Rizzuto, un incendio in un campeggio, una struttura era deserta, danneggiata anche il bar e il minimarket, quindi 50 metri quadrati ciascuni, il bungalow, un locale debito a un bar, un minimarket, sono stati distrutti da un incendio in un campeggio di Isola Capo Rizzuto in provincia di Catanzaro. La struttura era deserta per fine stagione. Sul luogo dell'incendio, in località fratte, sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco con altrettanti automezzi, sul posto anche i carabinieri che hanno avviato accertamente sulla natura del ruogo. Ancora un'altra notizia di cronaca, Anziano cade in un pozzo pieno d'acqua e muore, precipitato per 15 metri, il corpo poi è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Il tutto accade a Chiaravalle centrale in provincia di Catanzaro è accaduto ieri mattina in un terreno di proprietà della famiglia dell'anziano, deceduto. I parenti dell'uomo hanno avvisato i Vigili del Fuoco che oramai hanno poi potuto soltanto recuperare il corpo dell'anziano privo di vita. L'uomo è precipitato, ripetiamo, per circa 15 metri finendo in acqua. L'ipotesi più verosimile è che l'anziano sia deceduto per allagamento. A Reggio di Calabria invece è stato rivenuto un cadavere in stato di decomposizione, il tutto a seguito di una segnalazione giunta sul 113 giorno 15 di settembre da parte di un cittadino tunisino. Gli agenti delle volanti della questura hanno rivenuto poi presso l'ex deposito delle ferrovie dello Stato a Calamizzi il cadavere di una persona di sesso maschile in avvenzato stato di decomposizione. Sono state subito avviate le attività finalizzate alla identificazione della persona deceduta atteso che nell'immediatezza non sono stati riscontrati elementi utili per risalire alla generalità del soggetto, ivi compresa l'età e la nazionalità. Allo Stato sono in corso le indagini finalizzate ad accertare le cause della morte da parte degli uffici competenti della questura coordinati dalla locale procura della Repubblica. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.